Ma ben ritrovati! Come state? Tutto bene? Spero di sì. Oggi è Match Day, quindi ci vediamo in live su Twitch, come al solito, per tutte le emozioni che dovremo andare a vivere oggi, positive o negative che saranno, perché sarà una partita complicata, sarà una partita difficile, anche ieri ne abbiamo parlato insieme ad Avom, la conferenza stampa di Tiago Motta è stata molto orientata sul, anche, lodare l'avversario. Non sottovalutare l'avversario, capire che hanno un determinato stato di forma, perché stanno andando molto, molto, molto bene in Olanda. Poi, ieri sulla conferenza stampa di Tiago Motta non avevo capito il discorso relativo ai punti, e tanti di voi me l'hanno fatto notare nei commenti, quindi vi ringrazio. Ho detto una minchiata senza girarci intorno, però sicuramente Juve-PSV, che sarà una partita molto interessante, tra l'altro una partita inedita, perché le due squadre non si sono mai incontrate in precedenza. Ed è proprio per questo che, scrivendo sull'intelligenza artificiale di X come finisce Juve-PSV, sono rimasto stupito da questa risposta, cioè la partita tra Juventus e PSV, valida per la prima giornata della Champions League 24-25, si è conclusa con il risultato di 2-1 in favore della Juventus. Ah sì? Si è già giocata? Non lo sapevo. Mi fa piacere sapere che abbiamo vinto questa partita, mi dispiace soltanto non averla vista in diretta insieme a voi, commentate insieme a voi. Scherzi a parte, l'intelligenza artificiale è andata a tirare fuori praticamente questo risultato, che non può essere un risultato di un precedente, perché non si sono mai incontrate, e appunto va a specificare che è questa partita. Quindi non lo so, guardateci voi come può andare a finire. Io vi avevo raccontato un mio sogno, andiamo sotto 1-0 e vinciamo 5-4 al novantesimo. Questo era stato il mio sogno in precedenza. Iniziano ad essere troppe cose positive, quindi ridimensioniamoci, anche perché sarà una partita difficile, complicata, contro un'avversaria per nulla scontata, che in patria fa sempre molto bene. Poi è ovvio che la Champions è un livello differente, però la Juventus in questo momento ha avuto dei problemi nelle ultime due partite a sviluppare una manovra offensiva, ed è proprio da qui che nasce un po' l'idea di questo video, perché stiamo leggendo che Tiago Motta avrebbe pronte delle novità. Vorrebbe cambiare la formazione, sta cercando una nuova configurazione. Tra l'altro Guido Tolomei, che saluto, ciao Guido, che in questa stagione sembra davvero quello più informato sulle formazioni, vi do un'indicazione. Aveva indovinato qualche ora prima, nella prima partita tra Juventus e Como, il fatto che Gatti sarebbe stato capitano, che Douglas Lewis sarebbe partito dalla panchina, che Bangula sarebbe stato titolare. Io mi ricordo quel tweet, era pieno di commenti, l'ho visto soltanto il giorno dopo, ma era pieno di commenti di persone che dicevano, si vai, inventatene un'altra. Invece Guido ci ha azzeccato e ha dato dimostrazione che in questa stagione ha dei contatti abbastanza importanti e interni probabilmente anche alla Juventus stessa. Quindi ieri quando ho letto, anzi stamattina quando ho letto il suo tweet dicendo che il centrocampo di Tiago Motta potrebbe, quindi il segnale che non è ancora stata decisa la formazione, potrebbe essere molto particolare, mi si è accesa un po' una lampadina. Faccio un passo indietro, la conferenza stampa di ieri aveva Locatelli, quindi io immagino che Locatelli partirà titolare, che quindi ci sarà spazio per lui. Chi altri? Beh, se dobbiamo andare a prendere il miglior centrocampista sulla carta della Juventus, cioè con Mainers, sarei stupito di vederlo fuori in questa prima partita di Champions League. E poi ci sarebbero da incastrare altre cose dal punto di vista tattico. Poi aggiungiamo che nelle ultime ore si sono aggiunti anche altri nomi come prima Turam, e poi invece Turam sembra che non giocherà, sembra che giocherà invece McKennie. Addirittura si è parlato di un McKennie sull'esterno, segno che comunque si sta un po' sperimentando, che comunque negli ultimi allenamenti c'è stata questa volontà di cambiare. Io ho pensato a questa cosa qui. Ora, non so se Hildiz giocherà titolare. Magari potrebbe essere considerato un giocatore da turnover, anche perché poi abbiamo una partita tosta e complicata contro il Napoli. Quindi una settimana veramente molto molto importante per la Juve, però io ho pensato a questo tipo di configurazione. Voglio spiegarvi il perché. Perché Locatelli, che ieri era in conferenza stampa, secondo me giocherà, giocherà al posto di Turam, che magari non è ancora al 100%, magari non ha ancora tutti i minuti nelle gambe dopo l'infortunio. Bisogna andarci anche un po' cauti con questo tipo di stop. Ma l'ho pensata in questo modo per un motivo. Intanto la Juventus sappiamo che soltanto sulla carta è 4-2-3-1. Nel caso potremmo vederla così. Però è un po' un centrocampo che va a ricalcare l'idea di avere un mediano, quindi Locatelli o Turam. Secondo me Turam sarà titolare in questa stagione, però Locatelli fino ad adesso le ho giocate tutte. Un trequartista, che sarà Hildiz, giocatore che partirà leggermente decentrato dalla sinistra. È un giocatore di raccordi, di rifinitura come Cobb Mainers. Tra virgolette Cobb Mainers sarebbe una mezzala destra. L'abbiamo visto anche con l'Empoli, l'abbiamo visto anche con la Roma. Cobb Mainers tende comunque ad abbassarsi, tende ad andare a ricercare il pallone. Quindi vederlo subito qui, tenerlo subito trequartista, probabilmente potrebbe essere anche un danno per lui in questo momento. In questo momento qui, specifico, in cui sta entrando all'interno di questo nuovo meccanismo di Juventus e capendo per la prima volta che cosa vuole l'allenatore. Lui tende comunque ad abbassarsi. E allora l'idea che ho avuto è questa. Locatelli è leggermente spostato sul centro-sinistra, ma che comunque dovrebbe andare a coprire quest'area. Lui stesso ieri ha detto, mi sento un giocatore di equilibrio e ogni tanto devo capire quando ho la possibilità di andare su. Questo per me è il ruolo perfetto di Turam, ve l'ho già detto, però vi ho spiegato perché per me giocare Locatelli. Cobb Mainers qui perché andrebbero ad abbassarsi e Ildis per vie centrali, perché abbiamo visto anche banalmente con l'Empoli questa cosa, e cioè l'ampiezza. L'ampiezza è stata un problema per la Juve. Ildis non andava da rampiezza. Partendo da qua, è un giocatore destro che gioca a sinistra, lui vuole andare a concludere qua. Quindi va a stringere per forza di cose, liberando questo corridoio. Quindi o Ildis gioca esterno e qui ci metti un giocatore come magari Caval che può prendersi tutta questa fascia, o se no secondo me diventa molto molto complicata, perché sennò qui non ci va mai nessuno, perché Cambiaso che faceva il terzino andava dentro al campo. Ildis dentro, Cambiaso dentro, questa zona chi se la prende? Nessuno. Quindi potrebbe essere l'idea di giocare con Ildis in questa posizione qua. Poi bisognerebbe capire tutti gli altri giocatori. Esempio, non so quanti giocatori ci sono che potrebbero giocare in questa posizione, Vlaovic o forse Nico, che potrebbe giocare come falso 9. Però vi dico che la soluzione sarebbe molto interessante di vedere Nico a sinistra e Weah a destra. Perché questo? Perché comunque Weah è un giocatore che dà ampiezza. Lo sappiamo, l'abbiamo visto anche quando è subentrato proprio al posto di Nico. Nico per me è un'ala destra, principalmente, però abbiamo visto anche con l'Argentina che gioca sulla sinistra, perché solitamente è sulla destra, gioca un certo Leo Messi, quindi penso che sia anche normale cercare di lasciare lo spazio a un giocatore di quel tipo lì. Però perché potrebbe essere interessante? Beh, perché Nico andrebbe a interpretare il ruolo in maniera decisamente differente. Se sul centro-destra, sull'esterno destro, va a convergere verso il centro per liberare il sinistro, qui andrebbe a sfruttare il sinistro. Quindi l'ampiezza l'andrebbe a garantire. In questo caso avresti Weah che è destro sulla destra e Nico che è mancino sulla sinistra. Con Ildis che parte qua, ma va qua e con Beners che adora stare in questa zona. Ecco, questa è una configurazione che secondo me è ideale per cercare di risolvere quelle che sono le problematiche che abbiamo visto con l'Empoli. Poi è ovvio che qua può giocare Bangula, abbiamo già visto, magari al posto di Ildis ne giocherà un altro, non lo sappiamo, magari il Cobainers qui è qui un altro centrocampista, non ve lo so dire, però vi posso garantire che secondo me dal punto di vista tattico questa potrebbe essere una soluzione abbastanza interessante. Quindi voglio sapere anche un po' la vostra, secondo voi Tiago Motta cambierà tanto? Sarà una partita in cui farà tanto turnover? Ci saranno degli esperimenti o saranno soltanto dei piccoli accorgimenti per cercare di risolvere determinate situazioni? Chi vivrà vedrà, ma tanto la Juventus gioca. Oggi pomeriggio, finalmente torno alla Champions League, c'ho già la musichetta nelle orecchie. E davvero, non vedo l'ora di assistere a questa partita e sono curioso di vedere se l'intelligenza artificiale o il mio sogno ci avranno beccato. Sono anche un po' teso perché capisco che sia una partita complicata. Alla fine, se devo esprimermi io in un pronostico, vedo più probabile un pareggio. Oggi avevo pronosticato 4 punti in queste due partite di Champions League, quindi oggi potrei quasi aspettarmi un pareggio. Sono curioso di sapere anche la vostra, questo è stato nei commenti. Ciao ragazzi, ci vediamo oggi pomeriggio in live su Twitch.